Grazie, Bisac. Ci voleva questo Super Matteo. Ci voleva proprio. Molto bene. Allora, torniamo noi. Mezzo i miei Master Points con Enni. Penso che è la prima persona che vedo con più di 50.000 Master Points su Enni, perché nessuno vuole giocare Enni. Ah, sì, è vero che lo stravolgono Udyr, però, boh, non l'ho capita sta cosa qua. Non... vabbè. Nel senso, va bene. Io ne sono felice, anzi, se dopo siete d'accordo, chat, e me lo ricordate anche voi, giochiamo un bel Udyr full AP, che è tanto che non giocavamo, visto la quantità di nerf che si era beccato. Super Matteo mi carica, sì. Purtroppo io la mattina inizio all'air che sono addormentatissimo. Poi alla fine sto bene durante l'air, però... L'ha stato un po' addormentato. Ma nessuno vuol giocare Lissandra. Ma chi è che vuol giocare Lissandra? Aspetta, sinceramente. Ma chi è che vuol giocare Lissandra? Cactus, attualmente niente, mi dispi... Cioè, non ho ricompense, non ho più voglia di leggere il manuale ogni singola live, che tanto per quanto lo possa alzare di prezzo, la gente non spendendo punti in altri modi, è ovvio che va a chiedere soltanto quello. Quindi, cosa posso fare? Raccolta fondi di nuovo? Facciamo delle raccolte fondi, tipo un milione di punti per sentire Super Matteo, cioè... Nessuno Lissandra vuol giocare Lissandra. Non sarà in quella manco che l'ha inventata. A me dispiace, ragazzi, ma... Cioè, io lo trovo veramente un champ noioso, Lissandra. Mago a distanza, con pochi danni e tanti controlli. Cioè... Cioè, boh... Cioè, cos'è di attraente un campione del genere? Potrei addirittura pensare di startare con... No, ma starto così. Buon ghi... Già partiamo male? Già partiamo male. Ciao Ashes, il ministro Team Snipery ti segnalo al... Al giudice Terenas, sappilo. Sarà la fine per te. Eh beh, lui è AFK. Niente, Ash, mi dispiace. Buon game, abbiamo un AFK, quindi si farà remake... Quasi sicuramente. Eh sì, eh sì. C'è poco da pingare, ragazzi. Mi dispiace. A me che fa? Ho capito lo stream sniping. Questo è un po' esagerato. Eh vabbè. Nel senso. Perché mi sono beccato un ignite? Adesso capite perché va messa la monnezza, ragazzi. Adesso capite perché va messa la monnezza contro gli italiani. Erik, ma come coppia minimappa in bron... Ecco. Meno male che fanno schifo al cazzo questi. Meno male che fate schifo al cazzo. Bravo Fiddle, diglielo! Purtroppo ha il potere della visione, ma il potere del cervello non ce l'ha. Sono italiani bronzo, ovvio facciano schifo. Mi dispiace. Oh, vaffanculo! Eh? Bambina di merda! Ah! Nice su! Nice su! Non vi metto neanche la monnezza. Tanto vi greffate con le vostre stesse mani. Non ce ne hai bisogno. Grazie buff. Un bel blu buff. Non si butta. Questa nice su è come pronunciano nice i coreani. Nice su! È un po' come il sium di Ronaldo, capito? Il nice su di faker è come il sium di Ronaldo. Sembra un ottimo paragone questo. Oddio quanto è andata avanti. Giapponesi e coreani. Ma che pizze si prende! Ma io avevo sentito anche di un buff a Chogat, però non l'ha messo, vero? Ma il Chogat non ha bisogno di buff. È già un carro armato. Ah, ragazzi. Allora. Ability power. Eh, ragazzi. Con l'Everfrost è troppo forte Chogat, però, eh. Con l'Everfrost è troppo fottutamente forte. Non lo so. Adesso vedo cosa buildarmi. Altrimenti siamo veramente troppo forti con l'Everfrost. Bambina! Vieni qua, bambina. Don Chogat. Penserà a te. E poi qui, ragazzi, c'è la PlayStation Webcam. Merda, è caduto tutto. È caduto tutto, Ivi. Grazie ai due mesi. Ben tornato, grazie mille. Ziz Leona. Eh. Lui ha già assaggiato, quindi... Non vuole riassaggiare quello che si è beccato. Rocket Bell per il meme. E poi qui, ragazzi, c'è la PlayStation Webcam. No, dai, andiamo con il Luden, so. Merda, è caduto tutto. Troppo forte il... Troppo forte l'Everfrost. Niente. Arrivata Leona, trollare un po'. Così. Beh. Eh, che dire, ragazzi. C'ho Gatt livello 7. Non giocano gli avversari. Non ci ho neanche fatto caso, effettivamente. Anche Timolo, eh. Non è così strano. Basta non perdere Expo. Non ho fatto miracoli. Oddio, ma... È fottutamente imprevedibile quest'enni con i movimenti. Vabbè, però... Fino a un certo punto. Bec. Due cazzo venni, ma non lo so, ragazzi. Cioè, Eni e Leona stanno praticamente intando. Eh. Anche senza praticamente. Mi verrebbe da chiedere al signor Alkaline come mai il suo support ha deciso di... Tirare dritto e tanti saluti. Leona topside, ma... Non si è accorto di qualcosa. Attenzione, è partito col dodge. Madonna, che danni! Troppi. Indubbiamente troppi. Indubbiamente troppi. Oh, bella, Nate! Come mai tirare 3? Grazie mille, ma... Sei pazzo. Così, dal nulla. Vuoi spammare lì molto dorato? Oh, no. È arrivato l'ennesima volta a fare da babysitter alla torre. Mortenny, arriva lui. Sì. 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 È imprevedibile quest'enni. Ti corre addosso, torna indietro. Ah! O comunque sta imparando a doggiare. Avete visto? Guardate che si impara a giocare contro di me. Impara il dodge, si imparano un sacco di tecniche. Eh. Cazzo. Ottimi gank, devo dire. Complimenti. Aia! Va bene. Un gold resettino ogni tanto ci sta, ragazzi. Non si può avere tutto dalla vita. Non si può! Ho fatto un sogno e tu che giochi mi... Buongiorno, fieri, con un po' in ritardo, ma ci sia buona per il secondo mese. Beh, rimarrà tale. Grazie, versa C'è il vino per i due mesi. Ben tornato, carissimo. Grazie mille. Oh, chi dè è sistemato, mi piace a noi. Non andare a killare Aschettino. Fatto finta, vorrei vincere, poi... De Pippo, ma guarda, ne trovo di continuo io, cioè... Ogni settimana vi faccio sempre vedere quelli che ritengo dei ranker, vi faccio vedere lo PGG, vi faccio vedere... Vi predicto anche quello che fanno, mi ricordo, mi ricorderò sempre quella Vayne. vi ricordate quel game dove c'avevo Vayne Ahmed si chiamava e c'era quella Vayne lì che palesemente non voleva vincere. E ci si impegnava proprio, cioè faceva schifo in lane e si suicidava e una volta che noi stavamo vincendo andava a farmare tutta la giungla e basta. Cazzo, non ci sono arrivato, vabbè. Lone è the ranker, eh, ma... Cioè, sicuramente sto giocando per perdere, però non so se è perché è tiltata per qualcosa, non lo so. Codex nate CIRDX100, l'unica cosa che posso dire con il sub di tier 3 è che schifo i poveri. Guardate, sta doggiando questo. Però, Annie... Sta doggiando, sì, però non è che è pre-made con leone. Ecco la leona, vieni, vieni. Non so chi ha guardato qua dentro. Uh, non so come se è accaduta sta cosa, peccato. Ok. Grazie, mate. bullizziamo un po' la wave. Ulti livello 2 siamo a 662 danni. Timo scrive shit. So, i gambali attack speed. you head ma come? Ma come? ha l'iel veramente. Dove sei, Annie? Annie, mostrati. Annie, are you okay? Ecco qua. Sacchete. Salutami Michael Jackson dall'altra parte. sacchete! Ecco qua. boh ragazzi, che palle stiamo tutti stravincendo. Vabbè, approfittiamo. Ed Engel, grazie al Prime, bello, benvenuto. Approfittiamo per farci due chiacchiere, due sane chiacchiere. Devo ancora killare Ash. oh, è tornata, ma che cazzo. Madonna, che danni. Eh! Niente. Lucky bro. Quasi. Sei fuori lì. Ovviamente non mi insegue e fa bene. non ho la ulti. Però sono quattro livelli sopra. Eh! Ecco qua. Annichilita proprio. Annichilita proprio. Allora, che cazzo mi compro? Ma sì, dai. mi fa piacere vedere che lo giochi a P ogni volta e inframmolo anche se faccio ma no, no, bisogna giocare a P giocata ragazzi, assolutamente. Magari non con Illudence. Se volete giocare a P consiglio ovviamente l'Everfrost è sicuramente molto più forte. Sotto le sue ascelle. Sei in home page? Eh, lo so, me l'hanno accettata per ottobre. Grazie mille, Marco. Grazie. Ti dedico qui. vedete che dodge ogni tanto dodge quando le dice bene dodge. Quando le dice male no, non dodge. Grazie Marco. Ragazzi, guardate che la home page per gli streamer, cioè sono gli streamer a richiederlo, ok? Non è che la danno così in base a qualche merito e ai presenti trovi in home page. Prego. E due terzi di vita sono spariti. Penda? Non credo, tempo che arrivo lì è già finito. sono rintanati sottotorre questi. Niente, spariti. Ah, io so fed. Bella domanda. E ti devo rispondere? che bello vederci un pare un po' di bronzi la mattina. Grazie ai 9 mesi, bello, bentornato. Bellissimo, bellissimo. 4 a 30, orius o fed. Sì, ma loro non si rendono conto di cosa accade nella partita. Questa è la parte più bella. Cioè, non si è accorto che tipo per tutto il game c'è stato di continuo il suono della morte degli alleati. No. O muore lui o non se ne accorge. o muore lui o non se ne accorge. Tic! Ecco qua! Poi trappesi stanno vincendo tutte le lane. Leona trollato non si sa per quale motivo. C'è questo game a parte che non so come mai non l'abbiamo ancora sorrendato. Un miracolo. Bella, io faccio cagare. Vabbè, Ash, è anche beccato una leona che sta trollando. Spero non sia il tuo pre-made, onestamente. Spero non sia il tuo pre-made. Guarda come scappano, guardali! Guardali come scappano. Piateli. Guardate, qua! No, non c'è nessuno. Ma sono qua. Cioè, ma sono veramente scappate a nostra giungla. Proprio arrivederci. Guarda, quanto cazzo sono scappati? Dileguati. basta. Ah! Palle, Mi spiace Ash per il tuo support Così poco performante Back Ci provano a scappare ragazzi Ma non è così facile Per niente Allora prossimo direi Rabadon Senza fatica Ok Rabadon senza fatica E voilà Ma fa ridere perché loro non sorrendano Cioè siamo al minuto Al minuto 20 6 a 34 E loro non sorrendano Sono tutti in top lane contro Fiddlestick Nel frattempo Vabbè Chi sono io per negargli tutto il divertimento A parte i miei alleati stanno morendo non si sa come Cioè Incredibile Ma va bene così Eh sì Eh sì Avete intratto Avete intratto tutti Ma proprio tutti Potete chiudere ste porte per favore Eh Eh Hmm Ah calma Potrebbe essere un attimo nei guai No Al massimo lo sono loro Vabbè, me ne andrò indisturbato direi Sono così grosso che doggiare i funghi per me è impossibile Ho percepito il terrore Il terrore in quella hash Scusi, ma lei dove sta andando? Penta? No Oddio, forse, forse Vabbè, quadra Neanche quadra Ace Vabbè Ce ne faremo una ragione, ragazzi Ce ne faremo una ragione, ragazzi Come siamo messi qua di ulti? Mostri, tremi, ok Dai, lasciamoli vincere da soli Siate un po' autonomi per una volta Tra parenti, vabbè, io sono 23-1 per carità Però, cioè, sto game qua Magari non al minuto 20 Però poco più avanti sarebbe vinto ovunque Perché Cioè, hanno vinto tutte le lane Poi decidono a un certo punto di trollare Non si sa perché E io li osservo Ce la faranno da soli Fatecela da soli, ragazzi Subbia Non posso far sempre tutto io Ora ci penso io Oddio Aiuto Aiuto Oh Oh Ciompiamoci sto minino qua Volevano scappare Haha Sfigati Dei centri sociali Tutto bene, Galaxy Tutto bene Poi esagerato sto game, ma Ah Un po' troppi, lo ammetto Un po' troppi Ma va bene così Mi hanno dato un po' di soldi a Dash La sua seconda kill 5-15 0-12 Ottimi risultati direi Eh, sono abbastanza grosso Purtroppo Doggiare funghi Ah, per poi Iniziamo a fare così Doggiare funghi Doggiare spell Cioè, diventa impossibile Concio Gat Cioè, non riesci più a doggiare nulla Nonostante sia veloce Comunque 444 Muzie in speed Però È impossibile doggiare Qualsiasi cosa Ok Siamo full build Ragazzi Full build Con altre ec stack Sono altri 50 Più il 40% Vabbè, sì Un'altra settantina di AP Quindi Vabbè, arriviamo quasi a 900 Dai Quasi 900 d'AP Sì, arriviamo Shutdown Tic Ok Ho finito con le stack No Ne manca ancora una Va bene 5200 HP Ragazzi 5200 HP Full AP Ah 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 Sì Volete assaggiare? Ah Oh Eh Oh, Andy Ash la shoterei Cazzo Ash la shoterei Con una ulti Avete visto? Adesso leggermente meno Perché appena livellato Mi sa Eh vabbè Troppi troppi cc Ma va bene così Ragazzi Socras per i sette mesi Bentornato Bello Bentornato Peccato che non ricevo il buff del Baron Però ricevo i soldi E non è così male Mi verrebbe Da fare una cosa Per essere ancora più cattivi Per essere ancora più fottutamente cattivi Come lo vedi Cled Full reality Allora Vedere E cled Sono proprio Due parole Che non possono coesistere In questo mondo Mi dispiace Non scalappi la ulti Certo che scalappi Guadagno danni In base al 50% Della P Quindi sì L'ha spaventato Altrimenti Ma che succede qua Ma che succede qua Ecco Ecco come succede Niente Tutto Tutto Purtroppo la ulti Non ce l'ho Quindi Va bene Va bene Non viene nessuno Toh Aspettiamo il trinchetto rosso E muoviamoci Lo sapevo Ecco qua Pulizia dei funghi Mushroom police Mamma mia Che palle Sempre una fiesta Di cc I think any account Is it out of atrox Ma non funziona Per questo Comunque Ritiro tutto Quello che ho detto Ragazzi I miei leati Fanno schifo Cioè Non si riesce a fare Assolutamente nulla Mamma mia Atrox Dove cazzo è il ballo La sala Vieni inizio live E lo vedi Vieni Vornare che al posto Le scarpe Massimizzare danni di ulti Ma come vedi Il problema Non sono i danni di ulti Si atrox Ma dove cazzo Guardi Cioè ma Mamma Oh ma non ha preso Una w Che sia una Ma come si fa Il problema ragazzi Non sono i danni di ulti Il problema è poter raggiungere I nemici Questo è il problema Principale Cioè di fare più danni Con la ulti Non mi serve a nulla Ne faccio già 1500 Basta 6000 HP Comunque Piacevoli Vediamo di finire Sto game Zacchete Basta Durato abbastanza 900 di AP O comunque Iniziano a doggiare Tutti Ci avete fatto caso Non quella Qui in particolare Però Non quella Qui in particolare Però di base Eh Ma Che lounge Mi ha tirato Quello Vabbè Va bene Bene Stai insegnando loro A giocare Sì ma io ho visto Tantissimi doge Ragazzi A un certo punto Del game Quindi Qualcosa in par Vedete Il prossimo game Sarà diverso Per loro Comunque C'è una vergogna I miei alleati Stavano tutti stravincendo Bot stava vincendo Il jungle stava vincendo Top Beatrox Col di Che vergogna Meno male Che c'era l'eco sedere La sua ascesa Al bronzo 3 Non può essere fermata Mi dispiace Andiamo un po' Ok No Non sono Non sono Premade In bot Meno male Ash Mio fan Non potrei certo Mettersi premade Con un tizio del genere Che gli ha Persifrenti Mi ha